Avanti! Togliti il cappello in mia presenza. Scusi. Tu parlavi in aula. No, signore. Non vuoi ammetterlo? Io non parlavo. Tu sai chi parlava? Sì, signore. Allora, dimmelo. Questo è già il settimo giorno da quando ho sentito quelle voci durante la mia lezione e ogni mattina a quest'ora ti ho convocato qui, ma tu rifiuti di cooperare. Oggi è l'ultima tua possibilità. Non eri tu? No, signore. Però sai chi parlava? Sì, signore. E allora dillo. Sei un vigliacco. Incoraggioso. Non si parla di coraggio qui. Dovrebbe insegnarlo, signore. Sei un buffone. Sì, signore. Non una carogna. Una carogna. Carogna. Carogna a me. No, signore. Sono un buffone. Non una carogna. La società. Sì, signore. La società è quel luogo dove gli uomini esistono tutti insieme. Sì, signore. Questo vuol dire civiltà. Sì, signore. Il lupo solitario non può far parte di questa civiltà. Sì, signore. Non devi quindi crescere per essere un lupo solitario. No, signore. Devi uniformarti. Sì, signore. Ed è un mio preciso dovere farti crescere da buon conformista. Sì, signore. Te ne farò dare sei. Sei cosa? Con la frusta migliore. Non sono colpevole. Dieci. Dodici. Come hai detto. Dodici frustate. Così non me ne dimentico.